Musica Ben trovati a voi tutti ad un nuovo appuntamento di Insieme Oltre 2000. Quest'oggi è venuta a trovarci in studio Benedetta De Mari, che è l'autrice di questo volume del quale parliamo oggi, la mia Elena Lucrezia, un ultimo monologo di Una Felice Memoria. Saluto innanzitutto la nostra ospite, ben trovata. Grazie, grazie per l'invito. Grazie per essere qui con noi, Benedetta, per raccontarci quindi la storia di una grande donna. Quindi questa puntata dedicata alla valorizzazione della figura femminile e dell'intraprendenza delle donne. Perché? Qual è la storia che lei racconta? La storia è quella di Elena Lucrezia, corner o cornaro, nell'accezione italiana, episcopia, veneziana, trasferitasi poi a Padova, quindi pienamente veneta, figlia di un procuratore della Serenissima Repubblica. E la storia è interessante, o quantomeno è passata alla storia, la vicenda di Elena, perché Elena è la prima donna ad essersi laureata al mondo. Ma è molto più di tutto questo, naturalmente. Ecco, allora, apostrofiamolo bene, prima donna laureata al mondo presso l'università che vi accomuna. L'università che ci accomuna, certo, la mia prima università, perché poi ho conseguito una seconda laurea presso l'università di Trento, ma la mia prima università, quindi quella che porto naturalmente nel cuore negli anni della giovinezza, è proprio l'università degli studi di Padova. E se io sono una delle tante alumne di questa università, Elena Cornaro è stata la prima. Molto affascinante anche la storia che adesso le chiedo, Benedetta, di condividere con i nostri telespettatori. Allora, intanto diciamo che lei è una bellunese doc, originaria proprio di qui. Da cosa nasce questa passione, questa curiosità verso la figura di una donna che comunque è del 1600? Sì, allora, questa curiosità è nata da una statua. Una statua che io durante gli anni dell'università non avevo mai notato, eppure ci sono passata, quasi sicuramente anche il giorno della mia laurea, perché io mi laureai nella Sala dei 40, che è la loggia superiore di Palazzo Bo, nel giardino, nel cortile antico di Palazzo Bo, e quindi inevitabilmente o all'andato o al ritorno davanti a quella statua, davanti a quella donna ci sono passata, ma non avevo mai fissato lo sguardo. Se non una quindicina d'anni fa, casualmente, così tornando a Palazzo Bo, tornando a Padova, durante una delle mie gite padovane, ho visto questa statua, che è in un luogo anche un po' romito, nascosto, che poi ho rivalutato e le spiegherò anche il perché. E mi sono chiesta perché questa statua è qui? Quali sono i meriti di questa donna? L'onore di essere all'interno del cortile antico di una delle più antiche, la seconda università al mondo. E delle più prestigiose anche, sappiamo. E delle più anche prestigiose, certo. E quindi mi sono avvicinata e a lato c'è una targa marmorea, nella quale appunto c'era scritto Elena Lucrezia Corner Piscopia, 25 giugno 1678, prima donna laureata al mondo. E da lì nacque appunto la curiosità, tanti anni di studio e poi questo piccolo librino. Questo libro che è dunque l'omaggio ad Elena Lucrezia, la mia Elena Lucrezia. Questo è molto particolare perché la sente proprio vicina, sua. Sì, è un titolo affettuoso, quasi fosse un'amica o qualcuno di casa. Proprio perché tanti anni di studio, su di lei è rimasto poco, per sua stessa volontà. Elena chiese a Maddalena Cappelli, che era la sua maestra di musica, ma Maddalena accudì Elena fino agli ultimi giorni, chiese di bruciare alla sua morte tutta la produzione letteraria ed epistolare. Quindi di Elena è rimasto veramente poco. Qualche discorso accademico, un ode al crocifisso, una traduzione dell'anspergio dello spagnolo e poco altro. Qualche lettera. Quindi è stata una ricerca faticosa perché poco c'era su Elena. Quindi è stato difficile poi comprendere anche il pensiero. Io ho cercato di ricercare un po' anche l'anima di Elena. Per quello anche la mia Elena. Ecco, poi arriveremo anche a capire, Benedetta, appunto, qual è anche l'elemento che più l'affascina della figura di Elena. Però prima di questo raccontiamo quindi la sua storia. Chi era Elena Lucrezia? Elena Lucrezia era, i cognomi, andiamo a vedere i due cognomi. Questi due cognomi ci svelano chi era. Cornaro, quindi se diciamo Cornaro, alla mente sale subito la regina Cornaro, regina di Gerusalemme, di Cipro, di Cipro, Gerusalemme, meglio, e dell'Armenia. Caterina Cornaro, abbiamo qui molto vicino a noi Asolo, dove Caterina era domina a Cieli, per l'appunto, chiamata dal doge da Cipro. Per le continue invasioni, lei era rimasta regina sola, senza marito e senza anche il figlio, che poi muore molto giovane. Il doge la richiama e gli dà questo feudo ad Asolo. Quindi una famiglia culturalmente molto importante, perché Caterina Cornaro, che vive un secolo prima di Elena, creerà lì una sua corte di letterati e musicisti. E poi il secondo cognome, Piscopia, ci riporta ancora una volta all'origine a Cipro, in quanto Episcopi è un territorio dato in feudo perpetuo da un lusignano, re di Cipro, a un cornaro nel 1200. Questo cornaro aveva contratto un debito e non avendo il denaro per poterlo restituire, ecco che allora il lusignano gli dà questo territorio. I cornaro sono di quattro rami. Quello di Elena è quello dell'Episcopia, e quindi direttamente collegato all'isola di Cipro e alla famiglia della regina Caterina. Elena è la quinta di sette figli ed è l'ultima a nascere fuori dal matrimonio. Quindi una famiglia stramba per i tempi. Siamo nel 1600, dobbiamo guardare la figura di Elena e della sua famiglia con gli occhi del 1600. Di quell'epoca, certo. Di quell'epoca, naturalmente. Giovan Battista Cornaro, procuratore de Supra, quindi il numero due dopo il Doge, politicamente un uomo estremamente importante, ma anche culturalmente possedeva in Canal Grande quello che oggi è Palazzo Loredan, Caloredan, era Palazzo Cornaro. Possedeva la più grande biblioteca del mondo all'epoca e anche dal punto di vista economico era un uomo molto potente. Però non sposerà mai, o meglio, la sposerà dopo vent'anni di vita More Uxorio, sposerà Zanetta Boni, che era una plebea, una poveraccia, viene definita dalle cronache del tempo, una poveraccia della Val de Sabbia, cioè una delle zone che oggi sono tra le più ricche d'Italia, nel Bresciano, ma nel 1600 era ai margini di quella che era la potente, serenissima Repubblica e quindi una zona molto povera. La sposerà solo dopo cinque figli e vent'anni di convivenza. E quindi poi questa donna riesce a studiare proprio perché anche ha questa biblioteca, diceva, no? Sì, probabilmente la biblioteca Cornaro che veniva tralasciata di padre in figlio ed ecco che i fratelli del procuratore Giovan Battista muoiono giovani in età giovanile e quindi rimane lui l'unico proprietario di questa biblioteca. Sarà proprio all'interno della biblioteca di Palazzo Cornaro che Elena conoscerà il suo professore di laurea, il professore Carlo Rinaldini, un altro pisano. I pisani scappavano sempre, ricordo chiaramente il più famoso Galileo, e venivano ad insegnare all'Università degli Studi di Padova. Galileo ricorderà i 18 anni trascorsi a Padova come i 18 anni più belli della sua vita. Dicevo, all'interno della biblioteca di Palazzo Cornaro Elena conoscerà Carlo Rinaldini, sarà il professore che la istruirà maggiormente alla filosofia e alla teologia, materie nelle quali lei chiederà la laurea. Poi vedremo che si laurerà in filosofia per il veto del Cardinal Barbarigo. E poi la particolarità che lei riporta, benedetta anche proprio nella volume, obblata. Elena Lucrezia era un'oblata. Elena Lucrezia, nelle sue rappresentazioni, anche nella statua di Palazzo Bo, è sempre raffigurata con il mantello d'armellino dei dottori, ma non dobbiamo dimenticare che sotto quel mantello Elena portò tutta la vita lo scapolare dell'anagrezzo dei monaci benedettini. E apparteneva, ed oggi è sepolta, nella cappella Cornaro, all'interno della... Ecco, questa è la statua di Elena. Questa, ecco, la vediamo, no? Quindi con questo mantello, vero? Questa è la statua con Elena che ha il mantello dei dottori, le insegne accademiche, e ha questo enorme crocifisso. Ed è sempre rappresentata con questo grande crocifisso, proprio perché due sono le caratteristiche di Elena fondamentali, direi, la sua vita spirituale, come oblata benedettina. Oggi è sepolta, dicevo, all'interno dell'Abbazia Basilica di Santa Giustina a Padova, cappella denominata appunto Cornaro. Abbiamo anche un'immagine della sua tomba. Ecco, questa è l'ultima lastra tombale, è stata restaurata, anzi restaurata, proprio fatta ex novo, però copiando esattamente l'originale, pagata di tasca di una professoressa, la professoressa Ruth Crawford Mitchell del Vassar College di New York, che venne anche, lei non fu colpita dalla statua, ma da una vetrata all'interno di questo college a New York, ancora da studentessa, poi fu insegnante e anche preside dello stesso college, e fu colpita da questa vetrata e anche lei, come me, davanti a quella statua, chi è questa donna, perché è qui, è scattata la curiosità, è anche il fascino. Lei è in Italia e insieme alla professoressa Maria Tonzig, Maria Hildegarda Tonzig, oblata benedettina anche lei, oggi sepolta ai piedi della tomba di Elena, queste due professoresse, l'americana e la padovana, istituirono quel grande congresso del 1978 a 300 anni dalla laurea. Senta, Benedetta, qual è la figura, qual è comunque l'elemento, dicevamo, che più la fascina di Elena Lucrezia? La discrezione. È stata la prima donna ad essersi laureata al mondo, ha avuto una vita spirituale intensa, pensiamo, viveva in questo grande palazzo, figlia del procuratore de Supra, Giovan Battista, potenza, come dicevo prima, non solo culturale, politica, ma anche economica, eppure tutto quello che possedeva lo donava ai poveri. Quindi, quella statua, per ritornare all'origine, così le spiego perché mi colpisce la discrezione di Elena, quella statua che anche da me all'inizio è stata criticata, perché bisogna entrare nello scalone, girarsi, e si vede questa statua nascosta, ed è stata criticata da tanti, la posizione, non la statua, nascosta. in realtà, l'ho rivalutata, studiando la figura di Elena, l'ho rivalutata, rappresenta proprio la poliedricità di Elena, oblata, quindi una monaca, ma che viveva nel mondo, sotto i riflettori, come prima donna laureata al mondo, ma nascosta, in quell'angolino di Palazzo Bo, e quindi forse quello è proprio il posto giusto, visibile, ma per chi vuole veramente andare a trovarla, De Mari, dobbiamo ricordare che questo libro gode della prefazione di Antonia Arslan, un'altra importante scrittrice, professoressa rinomata. Sì, Antonia Arslan è un'amicizia importante, è diventata un'amicizia importante negli ultimi anni, io sono stata una sua lettrice, assidua, poi l'università vede questo filo degli alunni dell'università, perché Antonia è stata insegnante dell'Università degli Studi di Padova, ma anche alunna, abbiamo anche una foto, eccola qua, che Simone ce l'ha pubblicata, una foto che vi ritrae assieme in un momento. Sì, qui siamo a Padova alla Treccani, mentre proprio presentavamo il mio, questo piccolo libro, con la sua introduzione e presentazione, e quindi dicevo, io sono stata prima di tutto lettrice di Antonia, poi l'università ogni tanto mette assieme, con un filo unisce gli alunni dell'università, o le alumne in questo caso, e ci siamo trovate a dover fare una conferenza proprio all'unestà degli studi di Padova, proprio su Elena Cornaro. Da lì poi è iniziata una frequentazione e oggi definirei una grande amicizia. Una cosa molto bella. E tra l'altro, ricordiamo che il libro ha anche il patrocinio dell'associazione alumni dell'università degli studi di Padova, che troviamo proprio riportato, e quindi il desiderio, diciamo, di continuare, di raccontare, raccogliere e condividere, il grande patrimonio di esperienze, competenze e professionalità che distinguono coloro che hanno studiato e conseguito un titolo di studio nell'Ateneo Patavino. Questo appunto quanto riportato. Sentra, siamo in conclusione di questa nostra piacevole chiacchierata, Benedetta. Un messaggio lo dobbiamo lanciare, però, al pubblico, magari alle giovani donne che ci stanno ascoltando, alle studiose in questo momento. Che cosa si sente di dire col cuore? Allora, io lancerei un messaggio leggendo l'ultima parte, se lei mi concede, della prefazione di Antonia Arslan, che è proprio anche un messaggio di incoraggiamento, non solo per le nuove generazioni, per tutti. Per tutti. Direi, quindi concluderei con questa breve lettura di due piccole parti della prefazione. Certo, qui compare la donna in un mondo maschile, ma non la donna vittima che geme sul suo destino o sui riconoscimenti che le sfuggono. Piuttosto quella che li ha ottenuti, ma che li considera polvere e fatuità. Perché la sua intera volontà è volta a un bene più alto. Siamo negli ultimi tempi della vita di Elena che soffre e pensa e ricorda. Elena ha infine accettato il suo eccezionale destino con serietà e umiltà, così come accetta di vedere avvicinarsi il termine della sua vita. Scorrono, gli ultimi giorni del torrido mese di luglio del 1684 sfioriscono le rose dell'odeo del bisnonno alvise e lei si consegna pacificata all'ordine oscuro della morte confidando nel Dio todo poderoso a cui fin da bambina ha affidato la sua vita, consapevole tuttavia di aver indicato un cammino. Ed è proprio il cammino che io auguro alle nuove generazioni, ma anche a quelle un po' più vecchiotte, è proprio di intraprendere un cammino nello studio e nella vita con il coraggio e l'umiltà della mia, ma credo di poter dire oggi, della nostra Elena Lucrezia. Grazie mille, grazie Benedetta De Mari, ovviamente io ricordo il volume disponibile nelle librerie e l'invito alla lettura per conoscere da vicino questa storia meravigliosa, esempio per molti. Grazie ancora Benedetta De Mari. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci. a tutti quanti voi